musica 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 orco dio villa king of the roma 95 perchè abbiamo gli italiani contro e non con che potevamo dialogare almeno per dio vabbè rovine io me bio sledge non penso che cazzo prendemi allora the game è italiano meno male almeno uno e penso pure barney a sto punto e barney è inglese the game metti cazzo di mcroff bella parca miseria sul momento giusto jager e poi gli altri non so e e cazzo rampi nazzini ok non mi fa scordare la game perchè mi sono arrampicato qua no convinto che stavano in studio il modo più sicuro non essere spunchillato no c'è convinto che stavano che il matrimoniale fosse lì invece qua ok se avete qualche claymore poi appiazzatela eh allora ce n'è uno qua dietro jager si è infilato nell'armadio qua raga non so come ha fatto ma ci si è infilato bandit sta qua bello fatto bagno nel bagno bagno niente no aspetta è arrivato il pulso ora qua e non ho più droni cazzo spottato orca miseria mi è passato davanti secondo prima lo facevo parca oh ma che cazzo parca oh ma che cazzo parca oh ma che cazzo ma ci muori oh e che cacchio morto jager oh e che cacchio morto jager uno sta qua dietro uno sta qua dietro eh lo so nuovo caricatore no dov'è 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 no mi ha fatto si da studio è fuori lesion l'assessi l'assessi è tornato lesion sulla porta che fallo ce ne sta un altro di qua non ho droni per aiutarvi il pulso è morto sta qua dietro questo copro io copro io sinistra Enio esatto è vigil di davanti onda esatto porta bella comunque hai visto l'attuale si l'hai preso ma non non ha beccato un colpo lui è entrato un colpo bella onda ah beh dovevi vedere me con lo jager cioè non so quante volte l'ho preso non ci voleva morire stava sotto la finestra lui lo vedevo benissimo vabbè deposito d'arte quindi sotto vabbè jager va un bandito che è tutti col plugger da non arrivano fuori ma io sto in giro sopra e qua non so capire vogliamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza ho interrogazione no io ne voglio qua sotto si fa freddissimo no dai sta fermo il nemico ha individuato il contenitore di biorischio ruc ruc puoi venire un attimo 10 secondi sta a botola eh siamo a 5 secondi fai qua a botola fai si rompi la rompi fuori dal contenitore di biorischio a tutti i costi fuori dalla linea di tiro della DS fuori dalla linea di tiro della DS fuori dalla linea di tiro della DS e' mortaccia c'è pure una porta e' mortaccia c'è pure una porta c'è pure una porta morto maverick c'è un altro no no c'è un altro la botte da me qua arrivo le gambe non funzionano più quelle sotto non c'è stando stare la botte la in fondo non andare che stai nel glitch ricarico copritemi ultimo nemico rimasto che l'ultimo ce l'ho io botte qua morto attacco eliminata che quanta mamma non te ne sai l'ultimo l'ultimo non mi vince però cazzo questi muovano sotto un botte giusto andiamo a lettermite va dai no 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 perché 3 claimro individuato, raggiungetelo. Ehi, basta rubarmi le tavole. Ricarico! Andiamo a sbaccare Dio. Dimmi che non l'hanno baricato il nostro solito muro. Eh, più che altro, sennò dopo causa ai gari c'è... Non è baricato. Nice. Se hai le cariche di eruzione. No, no, c'ho... Una trapola di Frost distrutta. Oddio. Ah, ha bucato il muro dall'altra parte. Vieni, vieni, vieni. Facciamo il giro dall'altra parte. Che vuol dire? Vabbè, che schifo. Lo Yeager gli ho sparato 200 colpi in testa e non è morto, eh. E mi sa che è quello di prima. Vuoi vedere? Sì, è lo stesso di prima. Che neanche a me moriò. Attenzione che uno è uscito fuori sopra. Eh, clash, clash. Ok, già... Occhio, che è già aperto sull'obiettivo, eh. Shhh... Codro. Aspetta che avrò neanche io. Flash è fuori. Che cazzo sta? Ma non ho flash, invece. Sarà una distrazione. Ah, due garage. Frost è qua. Ricarico! Scappata. Sì, sta ancora qua però. Jäger, Jäger. No. Arriva Flash. Mentale, no. C'è sta emirassia Jäger. Che Frost, occhio, eh. Ah, qua è... Sì, ci provo. Comunque sotto è aperto. Andiamo a girare altrua. Stanno difendendo tutti e tre il buco del muro. C'è qualcuno? Sì. No, arrivi. Ah, certo. Aspetta l'altra del giro. Eh? Eh, nessuno. Mira sulla sinistra. Mi d'amore. Clash. Lancio la fanball! Arf, dai una mano ai panna per sinistra. Morta mira. Ma che... Ma dai, Frost... Cazzo, non ho fatto in tempo. Frost c'ha poca vita. Perfetto. È morta Frost. È morta, è morta. Ok, Kapkan, aspetta. Ho distrutto io il Kapkan. Ah! Hittato anche il Kapkan in obiettivo. Ma non è morto. Dovebbe stare tipo là, Kapkan. Sì, sì. No! Da dove non ha fatto? Kapkan qua! Kapkan qua! Attività nemica. Neutralizzate la minaccia. Destra, destra, destra. È entrato. Bravo andrà. Mamma mia. Ho pisciato i colpi. C'è, ha... Ha pusciato fuori il Kapkan? Sì, sì. Ma guardate che cazzo di tempismo! Ma come mi sono girato! No, io l'ho pisciato proprio. Ce ne manco l'ho visto. Mi ha sparato. Vabbè, era One. Ho tirato un bel po' di colpi. Era ciò, regà. No, One. Master Bedroom. Andiamo... Eh, non ce l'ho, Frost. Master Bedroom. Master Bedroom. Soggiorno? No, perché così copri... Copri tre finestre. E loro devono entrare per forza tre finestre e li ammazzi. Col Frost è sicuro che li ammazzi. Vai, provo la pazziera. Ti dico, io devo metterli. Sì, sì. Io metto il ledion così almeno... Tu pingami. Facciamo tutte le protezioni. Sì, sì. Buono, buono. Questa tecnica l'ho fatto io e Kevin, capito? Ok. E funziona pure abbastanza bene. Ok. 80% della volta... Spendite la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio. Ah, una qua. Una aspetta. Una per qua. E l'altra decidi se metterla o qua o qua. Il bagno lo barrico? Sì, dai. Sì, dai. Vengono 10 secondi. Ok. Rettano 5 secondi. Ehm... Il bagno lo barrico? Il nemico ha individuato il contenitore di più rischio. Eh, anche a me perché... Qua, qua. Qui, qui. Un drone di Twitch fatto, eh. Qua? Sì, arrivo. Sì, con le due barrico del lì. Sì, con le due barrico del lì. Sì, almeno uno si può sbagliare. È l'ora della medicina. Sì, con le due barrico del lì. Sì, con le due barrico del lì. Sì, con le due barrico del lì. Sì, maverick. Eh, non lo vi so, stava veramente... Praticamente alla tua destra. Esatto. Alla tua destra, Alisium. Eccolo là, è arrivato. Madonna che è laggata! Ok, ok. Eh, cosa è successo? È laggato! Ubisoft? 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 Cosa? Oddio! Non da qua dove si... Ok, è morto Maverick. Però c'è doveva essere altri. Left side, left side. Cazzo. No, ma che vuol dire? No, no. Il nemico sta prendendo il contenitore. Tutti gli obiettivi. Tutti gli obiettivi. Uh! Bello! Eh, vabbè, lascia, parto. Non gliela darò, non gliela darò. Non gliela darò. Non gliela darò. Eh, vabbè, lascia, parto. Non gliela darò, non gliela darò. Non gliela darò. Non gliela darò. Uh! Tagliela! Tagliela! No, ma tagliela, tra l'altro! Uh! Porca tua! Non gliela dare! Aspetta. Fammiare quello. Aspetta. Ah, sì 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 sì! Ehm... Ehm... Corridoio sinistra. Sì, esatto, là. Sì, esatto, là. Oddio! Oh! Bello! Ciao YouTube! Oh! Le ultime parole famose. Non gliela dare! Non gliela dare! Non gliela dare! Non gliela dare! Full team! Scemi! Mamma mia. Questa va sui team! Ma che è full... Aspetta, ma è full team! Full team. Sì! Grazie mille.